Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando davvero tanto odio ovunque, ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso perché è da 14 anni che mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo anche perché quello per me è il rispetto, la gente mi conosce e sa che non ho mai dato o detto un no che non avesse una motivazione e quando sbagliavo, ho sbagliato e ho sempre chiesto scusa cercando di far vedere anche il mio punto di vista, cercate per favore di ascoltare e non giudicare perché a volte ci sono dei ormai è troppo tardi che potrebbero non farvi vivere bene ve lo assicuro, io vi mando tanto amore e conosco bene la mia persona oggi più che mai e sono sempre stata grata a tutto quello che la vita mi ha dato, mi ha offerto e riconoscente all'amore del mio pubblico e anche a quello che non è il mio e io rimarrò sempre semplicemente me stessa e andrò avanti sempre nel rispetto e nell'amore. Vi mando un bacio a tutti, buona estate, ciao!